Oggi parleremo dell'applicazione dello storage Tintri nella nostra realtà in CloudItalia, presenterò che cos'è CloudItalia, chi siamo, cosa facciamo, quali sono i benefici che abbiamo ottenuto soprattutto dal software che si trova sopra questo hardware, Tintri è un software defined storage e vedremo quali sono appunto i vantaggi che hanno apportato alla nostra azienda. Io mi chiamo Raffaello Poltronieri, sono Cloud Specialist in CloudItalia, Deglio Trapani. Io buongiorno e buonasera a tutti, sono Deglio Trapani, sono il responsabile dei data center per CloudItalia delle comunicazioni. Dunque, andando un po' sullo specifico, l'agenda di oggi presenterò appunto l'azienda, che cos'è CloudItalia, i motivi per cui abbiamo scelto una certa architettura nei nostri data center, quale percorso nello storage abbiamo deciso di seguire da quando siamo navi, siamo navi nel 2012, quindi piuttosto giovani, il motivo per cui abbiamo scelto lo storage Tintri. Dopodiché passerò la parola ad Elio, che parlerà un pochino più approfonditamente del software, delle peculiarità di questo software, appunto basato su questo hardware. Finiremo con una demo, qui Elio potrà aiutarmi, che presenterà una di queste caratteristiche, per noi forse la migliore caratteristica, che è quella di riuscire a recuperare dei file a tempo zero. Ora, velocemente, che cos'è CloudItalia? Noi siamo un cloud service provider italiano, abbiamo la disponibilità di connettività proprietaria, facciamo telefonia, forniamo connettività appunto, servizi integrati e in ultimo, dato il nome, servizi cloud. Quello che cerchiamo di offrire al cliente è un unico punto di contatto, e la nostra clientela è prevalentemente enterprise, da ogni tipo, dalla piccola alla media alla grande impresa. Grazie appunto a questa integrazione di tutti questi servizi, piuttosto difficile da trovare una realtà di questo tipo in Italia, possiamo dare un servizio di questo tipo, un'integrazione di questo tipo. Alcuni numeri, vado un pochino veloce, perché non voglio fare marketing sulla nostra imprese di azienda. Abbiamo circa 150.000 clienti, siamo 250 persone dislocate in sette uffici in Italia. Il nostro business model è quello del partnership, abbiamo scelto questo modello perché i partner che sono intermediari tra noi e il cliente finale sono quelli che, diciamo, nel periodo precedente al cloud, all'esposizione del cloud, erano quelli che si occupavano direttamente del cliente, vendendo hardware, installando network fisiche, quindi per un rapporto di fiducia che si è creato attraverso i nostri partner. Abbiamo 237 points of presence e l'ultimo anno, lo scorso anno, abbiamo avuto 96 milioni di fatturato. Uno dei due punti di forza, che è appunto quello di cui parlavo prima, è il network. Il network, ripeto, è proprietario, quindi non ci appoggiamo a provider esterni. Parliamo di circa 15.000 chilometri di fibra ottica lungo il territorio nazionale, circa 3.500 chilometri di Radiolink, laddove è stato impossibile posare fibra o rame. Siamo presenti come man nelle 29 città più importanti d'Italia. E, infine, come dicevo prima, 237 points of presence. Il secondo punto di forza, e qui che entriamo in gioco noi, sono i data centers. Abbiamo tre data centers proprietari a Arezzo, Roma e Milano. Milano è in via d'apertura nei primi giorni del prossimo anno. Questi data centers sono completamente autonomi, hanno la caratteristica di essere completamente ridondati. Possiamo, nonostante la distanza tra questi data centers, grazie alla nostra rete proprietaria, grazie alla connettività di cui possiamo disporre, creare delle situazioni di disaster recovery tra questi tre data centers, hanno la capacità di essere scalabili. È una cosa fondamentale nel momento in cui si entra nel mercato del cloud. Infine, la bassa latenza. La bassa latenza, appunto, per la possibilità di avere una rete proprietaria, quindi collegare direttamente questi tre data centers in doppio anello da 20 giga, 20 gigabit per secondo, doppio anello, un attivo passivo, uno diretto, un altro passante per Pisa. Ancora due parole sul data center. Il primo è il data center di Arezzo, un data center proprietario nelle nostre sedi, corridoio caldo-freddo. Il secondo è quello in co-location qui a Milano. Troppo avanti. Ok. Abbiamo deciso di utilizzare come next generation data center dei brand ben conosciuti e in alcuni casi anche innovativi. Parliamo di conosciuti come Cisco, come Coriant, come Emerson, ma soprattutto come Tintri, in questo caso di cui andremo a parlare, e tra i pochi in Italia, e Rubrik come sistema di backup e fino ad ora agli unici in Italia a utilizzare questa tecnologia. poche parole sul motivo per cui abbiamo scelto un'architettura di tipo convergente piuttosto che iperconvergente. Con questa slide non voglio dire che l'una è meglio dell'altra. Posso però dire che nel nostro caso di service provider ho valutato, ho visto durante i mesi, durante gli anni, che la richiesta delle risorse non andava in modo parallelo. Abbiamo clienti che ci chiedono un tot numero di CPU, una tot quantità di RAM, ma molto storage. e questo non va in media, nel senso che quasi tutti i clienti seguono questo modello. Quindi se avessimo utilizzato una struttura iperconvergente ci saremmo trovati nel caso in cui avremmo avuto una carenza di storage e avremmo dovuto aggiungere nodi avendo troppo computing e sempre poco storage. Abbiamo scelto di utilizzare quindi Cisco VCS facilmente scalabili, quindi aggiungendo singole blade o interi chassis, Tintri, in questo caso. Tintri che si lega in modo completamente integrato con una situazione di cloud perché per semplicità di installazione, per possibilità di scalabilità, perché nei nostri data center che sono ad alta densità ogni singolo centimetro cubo ha importanza. Quindi quello che con tre scatole di questo tipo da quattro unità abbiamo un'occupazione di mezzo rack corrisponde a un rack e mezzo di storage tradizionale oltre alla semplicità di gestione, ma questo poi lo vedremo più avanti. Ok, la parola a Delio. Ok, quello che voglio raccontarvi adesso è, come dire, voglio fare un po' di storytelling di quello che è stata la nostra storia per quanto riguarda l'adozione di una nuova tipologia di storage. Quindi ho fatto una sorta di parallelismo tra quello che avviene con uno storage tradizionale, nel portarlo in azienda, nel fargli il setup, nel configurarlo, e paragonandolo invece a quelli che sono i benefici, a quello che effettivamente succede tutti i giorni nel momento in cui si adotta una tecnologia nuova, avanzata, come appunto quella di Tintri, motivo per cui siamo qui oggi. Quindi quello che vedrete adesso è, come dire, il percorso naturale che si deve seguire nel portare in azienda un nuovo storage. E iniziamo da questo. Come vedete non è un discorso semplice. Uno storage di tipo tradizionale arriva, in una scatola ci sono i controller, in un'altra scatola ci sono le teste, in una scatola ci sono le licenze. Insomma, ci vuole una persona che spenda uno o due giorni anche solo per l'inventario di questa roba qua. Dopodiché inizia la vera e propria avventura. Ovviamente lo dobbiamo collegare all'elettricità, quindi dobbiamo alimentarlo. Successivamente dobbiamo connettorizzarlo verso il nostro mondo network, possibilmente in modo ridondato. Dopodiché dobbiamo, con un parallelismo, iniziare a cucinare, tra virgolette. Dobbiamo fare la parte vera e propria di design dello storage. Dobbiamo disegnare i volumi, piuttosto che le lune, esportarle. Insomma, fare tutta una serie di attività che richiedono del tempo e soprattutto un livello di esperienza che magari un service provider come noi non ha e deve necessariamente rivolgersi a dei servizi professionali, spendere gli altri soldi, ma soprattutto tempo. Come sappiamo, oggi gli investimenti si cerca di farli nel momento in cui effettivamente l'abbiamo bisogno e il time to market, al momento in cui abbiamo un'esigenza, è fondamentale cercare di, come dire, realizzarlo nel più breve tempo possibile. Mediamente, quando va bene, questo tempo di solito sono tre settimane e un mese. E poi, finalmente, abbiamo a disposizione il nostro bell'array di dischi che possiamo cominciare a consumare. Un pasto che più delle volte, fatemi dire, arriva freddo, insomma, il nostro commensale non è mai tanto contento, magari siamo arrivati in ritardo, non gli abbiamo dato esattamente quello che stava cercando. Vediamo invece cosa è successo a noi con una soluzione software and refined grazie a Tintri. Allora, innanzitutto, arriva tutto in una scatola. In una scatola c'è tutto quello che ci serve, compresi i fogli della licenza. Dopodiché, ovviamente, anche qua, questa parte, mi viene a dire, è comune. Dobbiamo elettrificare la parte di storage, collegarlo alla nostra rete, ma in questo caso la parte di cooking, fatemi dire, di design, è assolutamente mancante. Questo è uno storage verticale pensato esclusivamente per gli ambienti virtuali, multi-hypervisor, VMware, Hyper-V, e gli altri OpenStack, e gli altri che arriveranno. Quindi questa parte è mancante. Si presenta lo storage al v-center e lo storage è pronto per essere cucinato. Solitamente questo tempo è di 30 minuti. Insomma, in mezza giornata, a meno di mezza giornata, voi avete questa scatola in data center e immediatamente la potete consumare. Adesso ripasso la parola a Raffaello per darvi una prima view di quello che io chiamo cosa c'è dentro questa scatola bianca che abbiamo appena installato. Sì, qui vorrei porre la vostra attenzione sulla semplicità della gestione di questo oggetto. Quello che vedete qui è il pannello di controllo dove abbiamo tutte le informazioni necessarie per la gestione, per capire se c'è qualcosa che non va, che cosa sta andando avanti, anche una specie di capacity planning, quindi una sorta di anticipazione e eventualmente di investimenti. Nello specifico andremo a vedere la parte superiore che è quella delle performance, quindi metà dello schermo parla delle performance, poi vado in modo approfondito a definire quali sono quei valori. la parte inferiore è la capacità utilizzata, residua, la moltiplicazione e la deduplica. Un piccolo passo indietro, questi storage riescono ad avere questo tipo di capacità grazie appunto a fattori di deduplica e di compressione che rendono lo spazio fisico esistente necessariamente inferiore, ma con un fattore di moltiplicazione che il marketing ci dà all'incirca un 5 per. Noi possiamo dirvi, sulla nostra esperienza, questa è un'immagine presa da un sistema in produzione. Come cloud service provider gestiamo circa 4.000 virtual machine, quindi questo valore di 1,7 è un valore, possiamo dire, reale. Nello specifico, in alto, tra le performance, vediamo subito qual è l'utilizzo sotto forma di IOPS di questo storage. A fianco vediamo lo stesso valore dal punto di vista di throughput, quindi di network. Abbiamo la possibilità di vedere qual è la latenza sempre dell'oggetto, poi vedremo che possiamo andare in modo più approfondito. La latenza dell'oggetto, questi due colori, vedremo che ci suddividono, in questo caso, quello 0,5 millisecondi in che cosa è latente, latente, è brutto questo italiano, su che cosa va a impattare questa latenza, se dipende dal network, se dipende dal storage, se dipende dall'SXI, dall'host. Infine, quanta flash viene utilizzata, quindi la percentuale, ovviamente l'ottimale è appunto avere il 100%, quindi in questo caso tutte le virtual machine stanno girando su storage solido. Questo è un sistema ibrido, quindi laddove la virtual machine non richieda delle performance, come dire, esagerate, viene spostata su dischi tradizionali. dopodiché andando a parlare quindi invece di capacità, vediamo la parte superiore riporta la capacità fisica dell'oggetto, quindi la raw capacity, quindi quanto è effettivamente utilizzato, quanto rimane libero e il totale. Come vediamo qui un totale di dischi effettivi è un son 46 pera che corrispondono dal punto di vista logico in questo caso a quasi il doppio, a 1,7 semplicemente. Di sotto quindi troviamo invece quello che interessa a noi, quindi quello che interessa a noi dal punto di vista di decisioni da prendere quando abbiamo certe richieste da parte del cliente, quindi come sopra, sotto la stessa sequenza di informazioni informazioni dal punto di vista logico, quindi i 60 sono quelle utilizzate, i 19 quelli liberi e il totale. Infine, la percentuale di moltiplicazione come dicevamo appunto prima. Di nuovo, andiamo in modo più approfondito. Allora, cosa succede a questo punto? Le interfacce che abbiamo visto fino adesso si riferiscono a un singolo sistema, ma ovviamente come avete visto dalla foto è possibile impilare tutte queste scatole, in modo tale da poter scalare praticamente a dei numeri molto grandi se non dire addirittura infiniti. Che cosa succede? Che esiste una interfaccia che viene chiamata solitamente il manager dei manager, si chiama Tintri Global Center. Questo è l'unico punto in cui alla fine lo storage manager tutti i giorni, ahimè, tutti i giorni all'inizio quando il sistema è nuovo siamo come dire un po' interessati a vedere che cosa succede, ma onestamente vi dico che in azienda passano delle settimane in cui non c'è proprio motivo di andare a loggarsi su questo sistema tanto è semplice e performante e privo di problemi. Il manager che cosa fa? Colleziona le informazioni che Raffaello vi ha presentato prima in modalità aggregata per tutti i box che voi avete in azienda. Quindi in questo singolo pannello voi sapete tutto il vostro storage, quante IOPS sta facendo, qual è il throughput e questa è la latenza media del numero di macchine che, come dire, per ragioni ovviamente di informazioni interne ho dovuto sbianchettare, ma parliamo di migliaia di macchine virtuali, siamo a un numero tra vicino ai 4.000, tutte queste macchine virtuali al 95% affrontano il loro IO su del disco e lo stato solido e in media presentano all'utente finale che lavora sulla virtual machine un millisecondo di latenza. Insomma, noi veramente con questa soluzione abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Nella parte bassa come abbiamo visto prima abbiamo un'informazione ben precisa di quelle che sono le nostre performance, cioè dato il totale delle performance di tutti questi box aggregati tra di loro in questo momento stiamo usando meno della metà. quindi potremmo aggiungere e come dire esporre questo tipo di user experience ai nostri altri clienti per il doppio ancora e su questa barra abbiamo la divisione di quello che invece è la capacità spazio libero spazio utilizzato diviso tra spazio live cioè quello utilizzato live dalle virtual machine e dagli snapshot che possono essere di sistema e non. La cosa interessante è che all'interno di questa interfaccia logica noi possiamo costruire dei gruppi nel costruire dei gruppi ovviamente facciamo riferimento a quelle che sono gli oggetti logici del vCenter piuttosto che del nostro hypervisor che stiamo utilizzando e quindi andremo ad applicare a costruire dei gruppi ad esempio per nome piuttosto che per folder per applicare una serie di feature software che adesso andremo a vedere questo è un esempio questo gruppo logico si chiama service group in questo caso fa riferimento a circa 105 macchine virtuali con un determinato nome questo che vedete è un elenco parziale delle macchine che partengono a questo gruppo facciamo un passo indietro per dire che questo questo sistema è un sistema che parla di virtual machine non è un'interfaccia come dire dove lo storage manager ha le sue informazioni ma anche l'amministratore di VMware sa che cosa sta succedendo da un punto di vista dello storage perché ha questo tipo di informazione è in grado di ovviamente ricercare una determinata virtual machine o ordinare l'elenco delle proprie virtual machine e su un'informazione come la latenza è in grado di andare a fare un drill down e capire quali sono i contributi da parte dei diversi pezzi dell'infrastruttura per quella componente di latenza in questo caso la componente di latenza è quasi tutta sullo storage l'host in questo momento non sta presentando problemi quindi la parte di latenza non è imputabile all'host è imputabile alla componente network per 0,1 millisecondi mentre si come dire si spalma sulla parte di storage secondo queste metriche è evidente che con uno strumento di questo tipo io immediatamente sono in grado di capire che cosa sta succedendo se ad esempio c'è un problema di latenza su una macchina virtuale ovviamente la individuo immediatamente perché mi basta fare un sort per quella che è la latenza ma soprattutto se ad esempio una di queste macchine virtuali ha la componente host particolarmente alta immediatamente identifico tutte quelle macchine che girano su quell'host e vado a fare un'indagine su quel particolare host per cercare di fare troubleshooting e risolvere il problema quindi questo è sicuramente un pannello di controllo molto potente perché non è solo la vista storage questo storage parla direttamente col v-center capisce quelle che sono le metriche come dire gli oggetti che deve gestire quindi ci presenta una vista che all'amministratore VMware l'amministratore della macchina virtuale è assolutamente proficua per fare capacity planning per fare troubleshooting per fare qualsiasi cosa in più ci sono una serie di feature che possono essere applicati a questi oggetti logici che abbiamo chiamato prima service group che cosa si tratta vediamoli velocemente poi magari facciamo una piccola demo di una di queste Sync.m ovvero Time Machine Sync.m rende possibile il viaggio nel tempo dello storage spostamento in avanti e indietro tramite snapshot restore device individuali e update di centinaia di child VMs da un singolo master in secondi ovvero che cosa significa che noi abbiamo una virtual machine questa virtual machine appartiene a un gruppo oppure non appartiene a un gruppo su questa VM in particolare applichiamo una policy di snapshotting quindi il sistema costruisce delle fotografie di questa macchina e noi con una GUI molto semplice che dopo vedremo possiamo passare da uno stato all'altro andando a recuperare le informazioni che ci servono possono essere dei singoli file può essere l'intera VM possiamo addirittura decidere di clonare a partire da un determinato stato si tratta in questo caso non di uno snapshot a livello di hypervisor ma uno snapshot a livello di storage il beneficio qual è? che lo spazio utilizzato per avere una copia anche di una macchina molto grande di terabyte è veramente super efficiente quindi andiamo a spendere pochissimo spazio storage per navigare tra i vari stati delle nostre VM questo è un esempio io seleziono una VM di questa VM vado a fare un restore che può essere o dell'intera VM oppure vado a recuperare un singolo file se rimane tempo farò una demo di questa parte qua qui ho una serie di restore points in questo caso la policy è quotidiana ogni ora viene salvato uno snapshot posso scegliere tra questi quello che mi è più opportuno per recuperare o uno stato di failure piuttosto che un'informazione che è andata persa una variante del singVM è quella che viene chiamata la funzionalità di refresh vdisk questa è un po' più complicata usiamo questa questa slide per questo diagramma per aiutarci immaginiamo di avere una master VM dove le varie componenti in termini di dati posizionate sulla macchina sono state opportunamente posizionate su dischi diversi solitamente parliamo di applicazioni tipo database o quant'altro quindi abbiamo un disco dove c'è il database un disco dove c'è il sistema operativo un disco dove ci sono i log e un disco dove c'è magari un database temporaneo io che cosa posso fare spesso che cosa succede la parte di sviluppo i team di sviluppo i developers della nostra azienda hanno bisogno di testare delle nuove feature testare del nuovo codice solitamente che cosa si fa si fa uno snapshot dell'AVM l'AVM viene posizionata su una network parallela in modo tale che non dia fastidio la network su cui sviluppano i nostri i nostri coder e a quel punto loro iniziano a fare test debugging della soluzione che stanno portando in corso ma spesso che cosa succede che la base dati su cui lavorano cambia perché ovviamente noi abbiamo fatto uno snapshot di un database di produzione che cosa posso fare con SyncVM RefreshVDisk posso a un certo punto dire ok i miei test sono andati bene però vorrei provarlo sulla base dati fresca cioè sulla base dati di adesso io posso grazie a questa funzionalità fare un refresh solo di quelle parti di disco che so essere cambiate quindi in modo immediato non devo di nuovo ricostruire l'AVM metterci il codice sopra che i coder hanno sviluppato e stanno testando ma semplicemente vado a fare come dire vado a iniettare partendo da quello che è la Master VM i cambiamenti che quel VDisk ha avuto in modo tale da poter provare nuovamente il codice utilizzando una base dati una base dati fresca una variante sempre di SyncVM ma come dire che ovviamente si basa sulla frequenza insomma quello che avete visto prima è la costruzione di uno snapshot a base oraria piuttosto che diminuti questa è la funzionalità che consente al scusate voglio il suo tasto che consente a questi sistemi di fare che cosa a partire da una serie di box diversi tra di loro anche per come dire taglio modello sono in grado di andare a replicare con una frequenza che vado a decidere io da un sito verso un altro sito piuttosto che nello stesso sito non come succede ahimè con quelle che sono le soluzioni tradizionali dove la base come dire la sorgente di replica è il volume o la LUN ma di nuovo qua stiamo parlando di un sistema che vede le virtual machine che parla col v-center io vado a selezionare solo esclusivamente quei pezzi quelle VM che a me interessa essere protette verso un altro sistema locale o remoto o quello che sia ok questa è la spiegazione di replica e VM la replica del backup di intere LUN consuma ovviamente capacità di banda tint riduce l'utilizzo della banda fino al 95% ovviamente come detto prima replicando i singoli oggetti per ultimo ma non meno importante è la funzionalità di secure VM ovvero la possibilità di criptare tutti i dati del nostro storage senza alcun impatto sulle performance e capacità eseguendo una rotazione delle chiavi di cripto indirettamente dalla GUI questa è una funzionalità soprattutto per gli istituti finanziari banche e quant'altro che ovviamente hanno una normativa ben più stringente rispetto magari altri soggetti nel gestire questo tipo di problematiche questa è l'infografica relativa a singvm ma vi dico che è veramente veramente semplice voi andate sul vostro sul vostro box abilitate l'encryption e i dati presenti sullo storage sono oscurati sono criptati quindi sono a prova di esportazione di esporto